Siamo al Parco Miralfiore e qui, ma anche in altre zone di Pesaro, persiste una problematica importante. Quale? Che non credo sia unica fra le altre cose al mondo, cani liberi fuori dagli sgambatoi. Quindi abbiamo dietro uno, no? E Pesaro ne ha diversi. La misura sicuramente di nostri amici a quattro zampe, eppure è facilissimo incontrarne di liberi tranquillamente, non pensando all'incolumità degli stessi cani, ma anche delle persone. Questa zona è particolarmente interessata da questo problema? Beh, questo è un parco, dove c'è un parco capita di incontrare cani liberi, perché ci sentiamo tutti un po', no? Ecco, negli educatori cinofili, del nulla, perché poi non sappiamo mai come possono reagire i cani davanti ad una qualunque provocazione di un proprio simile. Un problema che interessa anche altre aree verdi di Pesaro? Io ho fatto un giro molto ampio della città e devo dire che ci sono sgambatoi di lusso, o comunque cittadini che ritengono ci siano degli sgambatoi di lusso, come per esempio il fossato della Rocca Costanza o eventualmente il giardino intorno alla palla di pomodoro, senza raccogliere poi gli escrementi, è una cosa veramente vergognosa per la città. Recentemente ha avuto anche una discussione con un altro proprietario? Io sono stato aggredito verbalmente in un giro in città, in centro, ero proprio vicino a Rocca Costanza, c'era il padrone di un altro cane che lo teneva libero, questo cane quando ha visto il mio ha cominciato a puntarlo e io pensavo che aggredisse e allora gli ho fatto notare che comunque c'è un obbligo di condurre i cani al guinzaglio, mi ha aggredito a male parole, ho risposto comunque a tono. Cani liberi ma esiste anche una problematica legata alla raccolta degli escrementi? Sì, allora i secchi in giro per la città sono diminuiti naturalmente, spesso e molto volentieri gli escrementi vengono raccolti e lasciati dentro i sacchettini, quindi è praticamente un atto inutile, non mi sporco i piedi ma quel sacchettino deve essere poi smaltito dall'ambiente. Dunque si avrebbe maggior controllo in queste zone? Buon senso, buon senso perché Pesaro è una delle poche città in Italia e comunque ce ne sono soltanto due nella provincia che sono Pesaro e Pergola che hanno legiferato per il benessere dei nostri amici animali. Visto che siamo vicini a questo grande evento Pesaro città della cultura, anche la cultura della gestione degli animali non sarebbe male, sarebbe bene che il Comune investisse anche in una campagna di sensibilizzazione importante anche sulla conduzione degli animali.